E' scaduto oggi il termine ultimo per la presentazione delle candidature a sindaco delle liste dei candidati per i consigli comunali. In Sicilia sono 129 comuni interessati alla tornata elettorale che coinvolgerà 4 capoluoghi di provincia Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani. In 114 centri si voterà con il sistema maggioritario come previsto per i comuni al di sotto dei 15 mila abitanti mentre negli altri 15 centri si andrà al voto con il sistema proporzionale. Si vota domenica 28 maggio dalle ore 7 alle 23 e lunedì 29 maggio dalle 7 alle 15. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto domenica 11 e lunedì 12 giugno. In provincia di Egrigento i comuni interessati al voto sono 14. Si voterà con il sistema proporzionale solo a Licata dove sono 3 i candidati a sindaco, Angelo Balsamo, Fabio Amato e Angelo Iacona. A Menfi la sfida è tra Vito Clemente e Ludovico Viviani. A Samuca di Sicilia sono candidati a sindaco Sario Arbisi e Giuseppe Cacioppo. A Cianciana si candida il sindaco uscente Francesco Martorana, la sfidante e Linda Reina. Si ricandida anche il sindaco uscente di Burgio, Francesco Matinella. L'altra candidatura ufficializzata nelle ultime ore è quella di Vincenzo Galifi che già 5 anni fa si era candidato. A Lucca Sicula la sfida è tra l'uscente Salvatore Dazzo e l'ex sindaco Giuseppe Puccio che 5 anni fa non si era ricandidato e adesso torna in pista. A Ravanusa sono 4 i candidati sindaco, Vito Ciotta, Cabiria Loggia, Lillo Massimiliano Musso e Salvatore Pitrola. A Calamonaci il sindaco uscente Pino Spinelli dovrà vedersela con Vincenzo Scorsone che ha ufficializzato la candidatura a sindaco soltanto nelle ultime ore. Tre i candidati a Castrofilippo dove a sfidare il sindaco uscente Franco Badalamenti saranno Ilenia Dainotto e Salvatore Gioacchino Baio. A Grotte, oltre all'uscente Alfonso Providenza, l'altro candidato è l'ex sindaco Paolo Pilato. Non ha avversari Francesco Cacciatore, attuale sindaco di Santo Stefano Quisquina, alla sua terza candidatura. Si ricandida anche il sindaco di Sant'Angelo Muxaro, Angelo Tirrito, l'altro candidato è Alfonso Cacci.